Parola alle difese, va verso la conclusione, il processo al sistema montante già in secondo grado, la sentenza nella prima decade di marzo. Sabato è toccato alla difesa del generale Ardizzone, già condannato a tre anni in primo grado, accusato di aver indirizzato e consapevolmente avallato, così come si legge nell'ordinanza, l'operato di due finanzieri, Ettore Offanello, comandante del nucleo di polizia tributaria, e Mario Sanfilippo, appartenente al nucleo stesso, entrambi imputati, i due finanzieri avrebbero effettuato controlli fiscali secondo la procura favorevole a Montante Romano, in cambio dell'assunzione della figlia di Ardizzone, Alcofidi di Caltanissetta. E' stato lo stesso Ardizzone, ha detto il difensore Giuseppe Dacui, a rivolgersi a Venturi, scartando Romano e Montante, per Venturi che avrebbe stilato un patto corruttivo con Ardizzone, è stata archiviata l'ipotesi di reatro, mentre Ardizzone viene condannato, ha continuato il difensore. Non comprendiamo questa disparità di trattamento, visto che l'unico coinvolto è stato Venturi e non Romano e Montante. Le udienze precedenti sono state dedicate alle parti civili. L'avvocato Riccardo Palermo, sostituto di Raffaele Palermo, incaricato dal Comune e parte civile nel processo, ha chiesto un sequestro conservativo di 150.000 euro per danno d'immagine alla città di Caltanissetta. Ha discusso pure l'avvocato Annalisa Petitto per cinque ore della posizione del suo assistito Alfonso Cicero e teste chiave del processo. Udienza iniziata con la richiesta di apertura delle porte dell'Aula ai giornalisti, richiesta rigettata dalla Presidente della Corte, Andreina Occhipinti, richiesta che tra l'altro ad inizio di processo era stata effettuata anche dai giornalisti, alla quale gli stessi difensori che ora chiedono di aprire le porte avevano detto no. Le prossime udienze, sempre dedicate alle difese, venerdì 4 e 5 febbraio, parleranno il difensore di Diego Di Simone Perricone, ex capo della security di Confindustria, Marcello Montalbano, e l'avvocato di Marco Deandolis, Poliziotto, condannato a quattro anni, Monica Genovese. Concluderanno le udienze dedicate alle rinche difensive Giuseppe Panepinto e Carlo Taormina, difensori dell'imputato principale Antonello Montante.